Sono Juventus e Parma che si affronteranno domani mattina sul campo di Aldeno alle 10.30 e Verona-Norgelland che si affronteranno invece ad Arco sempre alla stessa ora, le semifinaliste della 44esima edizione del torneo nazionale giovanile Città di Arco Beppe Viola, una semifinale abbastanza sorpresa se consideriamo i nomi delle quattro semifinaliste, la Juventus infatti era arrivata ad Arco dopo aver attraversato un periodo abbastanza buio, il Parma tutti sappiamo che ha una situazione societaria non delle più invidiabili, il Verona in campionato non andava benissimo, è inserito nel girone B del campionato nazionale allievi ed il Norgelland ha sempre fatto la figura della comprimaria, quest'anno i danesi si sono dimostrati particolarmente agguerriti, se è vero che ieri hanno addirittura vinto un'altra volta battendo la Lazio per 3 a 1 e quindi levando ogni possibilità di rimonta a Inter che aveva a sua volta sconfitto il Torino. Gli altri risultati, la Juventus ha battuto 6 a 0 i giovani dell'arco, l'Atalanta ha superato il Napoli in rimonta per 2 a 1, la Nazionale dei Tanti ha vinto questa volta a sorpresa dopo due sconfitte consecutive ha battuto il Chievo per 2 a 1, mentre ad Arco il Parma ha battuto meritatamente il Milan per 3 a 1, il Parma va segnalato il numero 10 che è stato il vero Castagna, il vero mattatore della partita, al suo attivo un gol, un assist e due pali, per dire un bel bilancio, è un ragazzo di sicuro a venire. C'è da dire inoltre che proprio oggi sono affluiti all'ufficio stampa i risultati dell'allenatore dei sogni, che è il concorso al quale danno vita proprio i ragazzini partecipanti al torneo che votano quello che per loro dovrebbe essere l'allenatore di quando saranno giocatori grandi e professionisti. Ha vinto di una incollatura peraltro, comunque di pochi voti, ha vinto Eusebio Di Francesco che è l'attuale allenatore del Sassuolo e ha battuto Maurizio Sarri che è l'allenatore dell'Empoli, un uomo che viene dal basso, dalla gavetta, ma che ha dimostrato quest'anno in Serie A e l'anno scorso in Serie B con la squadra toscana di saperci fare quanto a soluzioni tattiche e a qualità di gioco. Il nostro Rolando Maran che allena il Chievo come è noto è arrivato al quarto posto. Detto questo c'è da parlare infine del premio giornalistico Beppe Viola, la giuria si è riunita ieri sera e ha premiato per la carta stampata Francesco De Luca che è responsabile dei servizi sportivi del mattino di Napoli, giornalista di 49 anni che appare spesso sul sito web del suo giornale con dei precisi e puntuali servizi sul campionato di calcio di Serie A e soprattutto ovviamente sul Napoli. Poi per l'informazione televisiva invece il premio è toccato ad Alessandro Bonan che è uno dei volti più noti di Sky Sport. Bonan è un pistoiese che ha cominciato a lavorare con una privata fiorentina, quindi è passato Tele più e quando Tele più è confluito in Sky ha condotto delle trasmissioni particolarmente importanti di intrattenimento sportivo. Adesso conduce tra le altre cose speciale calcio mercato con Gianluca Di Marzio che è una trasmissione tra le più seguite. L'altro premiato sempre per la televisione, per l'informazione televisiva è il radiocronista della RAI Emanuele Dotto che è un po' più anziano di Bonan, non diciamo l'età, che ha cominciato nel Corriere Mercantile occupandosi di calcio direttanti, poi dopo essere entrato in RAI ha fatto la sua prima telecronica nel calcio minuto per minuto era Varese Lazio nel campionato 81-82, poi si è occupato anche di vari sport, Formula 1, tennis con la RAIA e poi ciclismo del quale è diventato con il passaggio di Antonella Orlando a RAI Sport è diventato la prima voce, ecco, questi giornalisti saranno presenti martedì pomeriggio dopo la finale del torneo al Casinale Municipale di Arco per ricevere appunto l'ambito premio.